fare imprese in italia oggi sicuramente non è la cosa più facile del mondo anche se certe carte da giocare noi le abbiamo sembrerà scontato ma sicuramente le persone e il modo di adattarsi ai problemi che hanno è una delle chiavi di volta per lavorare in italia e lavorare bene all'estero se guardiamo l'italia noi abbiamo dei vantaggi competitivi che sono soprattutto legati all'estetica alla storia però ce n'è uno magari non sempre considerato che appunto sono le persone e il grande spirito di ambizione di orgoglio personale che abbiamo che per certi versi un po' blocca una certa crescita perché tutti pensano di essere il migliore però dall'altro nascondono veramente delle perle di persone che quando vengono coinvolte nel lavoro nei risultati negli obiettivi in maniera corretta hanno una marcia in più una marcia in più rispetto all'estero perché abbiamo il buon gusto perché abbiamo la fantasia la creatività di andare dentro il problema fino in fondo e trovare una soluzione magari semplice ma che nessuno è stato capace di immaginare quindi oggi fare business in italia lo si fa perché si è circondati sia in azienda sia fuori da queste persone